BORN TO BE WHILE Federico Pendin, presidente della Fondazione San Nicolò, vicepresidente di Forma Veneto, vicepresidente di CSL nazionale, membro del board per l'accreditamento periodico del corso di laurea di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti dell'Università di Padova. Ti senti un po' BORN TO BE WHILE, Federico? Intanto vi ringrazio per questa imboscata, mi sento molto vicino a quello che fate e direi che soprattutto durante il Covid mi ha molto colpito quando avete, credo, in quel periodo l'introdotto questo tipo di format, quando gli imprenditori lavoravano da soli, perché eravamo un po' tutti isolati. Voi avete creato in qualche modo un filo rosso? No, non l'avete creato, avete aiutato gli imprenditori a riconoscere quel filo rosso che ci unisce e in quel periodo lì è stato molto importante per chi voi avete interessato su questo tipo di format, in qualche modo considerarsi in rete, mettere a fattore comune problemi, idee, progetti, eccetera, per cui sono io che sono grato a voi. BORN TO BE WHILE Sei arrivato con la moto Beh io appena sono arrivato ho visto una chitarra e mi sono subito imbracciata perché ho suonato tantissimi anni fa su una band che faceva hard rock e suonavo le tastiere in realtà e poi avevo un fratellino che si era fatto male una mano, in parte per colpa mia che non ha più potuto suonare il piano e quindi ho imparato a suonare la chitarra per insegnarla a lui e adesso è stupendo e fa concerti. Wow, che storia. Beh ci manca un pianista in realtà perché lui suonare la chitarra, io canto. È da un po' che non suono in realtà. Lui la batteria. Non sembrava. E poi così la barba, è un po' che porti la barba così lunga. Diciamo che è un po' per distrazione, è un po' per pigrizia la questione della barba, sì, ma sono fatto un po' crescere ma soprattutto sono diventato amico di un barber shop che mi piace molto. Ok. Adesso non ce l'ho particolarmente curata ma quando ce l'ho curata mi piace come la fa. Bene, bene, bene. E poi con tutte le cariche che Ludovico ha nominato non hai tempo di farla, la barba. Allora diciamo che si fa un po' fatica, non tanto per le cariche ma per gli impegni che comporta poi, anche per una passione che ho insomma nelle cose che faccio per cui poi mi lascio sempre trasportare. Poi famiglia numerosa anche? Famiglia numerosa, cinque figli, tra i quali due che una si laurea a settembre e l'altra invece a settembre l'anno dopo e a scendere poi la più piccolina che è anche la più furba che ha undici anni. Hanno seguito un po' le orme del padre? Allora non ho, cioè, sì, tu sei ingegnere giusto? Io sono ingegnere e la più grande fa ingegneria biomedica e si laurea adesso appunto a settembre e la seconda fa ingegneria gestionale. Ah beh allora sì, ti hanno seguito. No, ecco, non ho scelto liberamente di fare ingegneri, ecco. Lo dico col sorriso. Wow, una passione di famiglia proprio. E quante moto? No, allora, io ho sempre avuto, dovete sapere che ho imparato prima ad andare in moto che non in bici. Mio papà me l'ha comprata che avevo quattro anni, era una moto molto piccolina, perché avevo i genitori di, i miei nonni materni, avevano un murino. Gli cognome, la mia mamma fa farina, ce l'aveva dal 1200 e distava più o meno 3-4 chilometri da dove abitavamo noi. E io ero innamorato di quei nonni e quindi per andare a trovare mio papà mi ha comprato una piccola motoretta che negli anni 70 si poteva guidare senza che ci fossero troppe. Esatto, eravamo mezzi d'accordo anche con i vigili locali che, insomma, se io facevo solo quella strada non c'erano problemi. E Federico, ho lasciatelo andare. E poi immagino che ti conoscessero tutti, quindi avevano tutti un occhio di riguardo. E' piccolino e quindi da lì poi ho sempre avuto la moto, ho fatto anche dei percorsi di motocross e adesso ho appunto una moto più da bar, come si diceva. Che moto hai adesso? Uno Scrambler Ducati, che è più da passeggio diciamo. Beh però, se acceleri va. Se acceleri va. Attento perché Gianni è team Aprilia, perché lui gira con un pilota in tutta Italia. Però le Ducati sono sempre le Ducati. Ecco, io ho avuto il Tuaregrelli a proposito di Aprilia, che è una mitica degli anni 80, da prima. Ducati, però, le Ducati perdono ancora i bulloni, mi dicono. Allora, io ho il famoso pompone, quella che è di derivazione Monster, quindi un pistone molto largo e corsa molto stretta. Ed è uno spettacolo sentirlo sbuffare quando si gira per le strade. Pensate che quando tu compri una Ducati, vi danno in tutta una calamita da mettere dietro, così se cadono i bulloni, la calamita li tira su. Beh, geniale, geniale. Stare pensato geniale. Si dice questo rispetto alla BMW, ma da un po' di tempo, secondo me, diciamo che... Hanno giustato il tiro. Sì, non è più così. No, no, grandi moto, grandi moto. Quindi Born to be Wild l'abbiamo azzeccata un po'. Ti rappresenta un po'? La canzone... Può essere una componente, certamente, una componente che... Qualche modo mi rende un po' anche eclettico nelle cose che faccio. Non troppo impostato, non mi prendo troppo sui serio. Abbiamo una domanda, Gianni? Abbiamo una domanda, la prima domanda. No, ne abbiamo più di una. Sì, ne abbiamo più di una e questa è stata dedicata, è stata non dedicata, affidata a me, essendo il più giovane fra tutti quanti. E quindi i giovani come me che vogliono lavorare nel marketing, nelle aziende, che cosa cercano, che cosa vogliono trovare in un'azienda per lavorarci e dire e scegliere quel lavoro e quell'azienda, secondo te? Allora, dico due cose su questo. Allora, una premessa e poi una considerazione personale. La premessa è che i giovani d'oggi sono straordinari. Si dice molto che, soprattutto quelli della mia generazione e anche un po' di più, che non ci sono più i giovani di una volta. Io dico per fortuna. C'è una generazione che pensa in modo diverso e proprio perché pensa in modo diverso a volte gli adulti non capiscono. Però questi giovani hanno un'energia, dentro una loro modalità diversa, che noi non avremo mai. Cioè gli strumenti che oggi i giovani hanno a disposizione per sviluppare la propria carriera, cioè sono strumenti che nella storia non ci sono mai stati. Ed è una generazione che, nonostante si pensi che abbiano tutto, hanno tutto ma non hanno niente. E in qualche modo questo, perché noi pensiamo adulti che gli abbiamo dato tutto, ma gli abbiamo dato delle cose, no? Per riempire. Ma questo vuoto che hanno non si riempie con le cose. Con le cose. Si riempie in qualche modo con l'aria che soffia sotto le ali quando uno ha la soddisfazione di fare una roba bella. E non si pensi che sia una generazione che, siccome è piena di cose, non soffre. Soffre e attraverso questa sofferenza, secondo me, sbocciano tantissime cose positive. Questa è una premessa che mi sento di fare perché mi sento di tifare per queste generazioni e che provino a imporsi nelle aziende e che provino a, in qualche modo, portare questa aria nuova. Perché il futuro è loro. Non è di chi ormai la mia generazione la storia l'ha fatta. Che se ne dica. Secondo, mi viene da dire, sul marketing è, secondo me, un ambito straordinario. È un ambito poco capito. Si è confuso, soprattutto gli adulti, hanno confuso lo scopo con lo strumento. A un certo punto si è pensato che fare marketing volesse dire saper utilizzare i gingilli di Facebook, i gingilli di Google, fare le campagne, fare la TV, che sono cose importanti, ma si imparano anche velocemente. Quello che suggerisco alle nuove generazioni è, mi viene questa immagine, avete presente quando c'erano i primi, le prime telefonate, no? C'erano quelle segretarie, c'è anche un film bellissimo su una serie. Sulle telefoniste, staccavano gli spinotti e collegavano con lo spinotto giusto. Ecco, il fatto di staccare gli spinotti si fa presto a impararlo e non c'entra con la comunicazione. È come se si confondesse oggi lo staccare gli spinotti e saper collegare gli spinotti giusti con il fare marketing. Questo secondo me sta danneggiando il marketing, ma con l'avvio dell'AI penso che ci sarà una nuova, come dire, una nuova prospettiva che ci farà capire e si sta pian pianino ritornando anche a ciò che è l'essenza del marketing. Perché quando ho imparato il metodo, poi, che ci siano spinotti o gingilli è una conseguenza. Quindi il fatto di non confondere lo scopo con il mezzo, secondo me, è importante. Però anche dal punto di vista, secondo me, di già chi è professionista nel marketing, no? Con l'arrivo dell'AI di tutte queste innovazioni non è facile stare al passo. E non so se ti è capitato magari di confrontarti con persone di questo tipo e che consigli gli hai dato o come un professionista deve comunque tenersi formato, aggiornato per, insomma, stare al passo. Allora è verissimo quello che dici. Quindi, infatti, moltissime volte capita che a questi professionisti magari gli si introducano ambiti nuovi e diversi. Loro ti dicono bellissimo, l'AI è bellissima, ma non fa per me. Avete presente questa frase? Sì, certo. No, no. Nel tuo caso va benissimo, fai benissimo, ci vai dietro. Ma non fa per me. Ecco, questo è quello che divide, secondo me, la vecchia generazione dalla nuova generazione. La nuova generazione non ha paura. La vecchia generazione, rispetto a strumenti nuovi, in qualche modo, ancora fatica a mettere. In questo senso, secondo me, il nesso fra le due generazioni può essere esplosivo, se ha voglia di dialogare. Quando invece ci si arrocca, diventa complicato. Ma secondo te può essere anche per i giovani, a volte un blocco, avere tutti questi strumenti magari un po' troppo dispersivi. Di chi è compito, secondo te, veicolarli? Delle aziende, della formazione? Allora, diciamo che diversamente dalla generazione mia, la nuova generazione è abituata molto di più alla complessità. Cioè, è complesso per noi. Io credo che per i giovani, per chi si affaccia adesso, è abituato a ragionare su più, come dire, su più di ragioni, su più di ragioni, su più di ragioni, su più di ragioni, su più, come dire, ecco. Ripeto, non voglio ripetermi quello che ho detto prima, però, ecco, secondo me il punto sta nel non confondere quel gingillo, quello strumento, perché quel gingillo lì vale per sei mesi, un anno. E poi ce n'è un altro. Dopo ne arriva un altro. Non ti devi attaccare. Dopo ne arriva un altro ancora. Dopo ne arriva un altro ancora. Ho visto in alcuni giovani, non più giovani, li ho visti, attaccarsi in qualche modo allo strumento. E pensando che affinando sempre di più quello strumento, continueranno a fare gli stessi numeri di prima. Non è così. No. Di strumenti ce ne sono di nuovi. Bisogna non avere paura da affrontare. Ecco, la paura, lo vedo, che è un aspetto, il timore delle nuove tecnologie, di nuovi strumenti, è un aspetto che si incrementa proporzionalmente con l'età. Cioè, più sono giovani, più, come dire, sono smart, veloci. Sì, non hanno paura di incrociare la roba nuova, la intercettano, eccetera. Più si diventa, come dire, consapevoli, anche saggi, più consapevoli delle proprie capacità e più si tende a ritenere che quello che tu hai sia sufficiente. Certo. Ma parlando sempre di giovani, noi è vero abbiamo tantissimi strumenti diversi. Perché ti consideri giovane? Io ho 22 anni, quindi penso di essere abbastanza giovane. Questa volta. Fino a che anni si è giovani? No, no, nel senso che io mi riferisco anche a, dopo ti lascio fare la domanda, anche a persone che hanno 18 anni. Ok. Tu ne hai 22, c'è una generazione di quelli che ne hanno 18, che stanno finendo le superiori, che su quelle tematiche lì sono dei razzi. Certo. E hanno già una dimensione diversa. Sì, infatti… Perché i giovani hanno la tendenza di pensare di rimanere giovani. È benissimo, cacchio. E invece tocca anche a loro, eh. Manca giorni vecchi, perché prima o poi diventerò vecchio anch'io. Tocca anche loro. No, ma io mi sono accorto che, sì, noi abbiamo tantissimi strumenti superpotenti e anche facili da usare per noi giovani, anzi per loro giovani. Però io ho notato che manca un po' la voglia proprio di farlo. Cioè, è tutto così facile… L'hai presa tutta te, Gianni, la voglia di fare. Esatto. È tutto così facile che i ragazzi dicono, vabbè, per usare un termine giovane, pacco. Cosa consiglieresti invece a un giovane che ti… Dili, dai, fai… Dati da fare. Cioè, è pieno di roba che puoi fare. Cosa gli diresti? Magari a un te 18enne nel 2024, che cosa gli diresti per… Ma, guarda, non sono sicurissimo che i giovani, come dici te, pacco, non hanno voglia. Dov'è che… Qual è il perimetro sul quale loro, tra virgolette, non hanno voglia? È il perimetro che gli viene indicato dall'adulto. Se tu misuri il giovane con gli occhi dell'adulto, l'adulto dice, no, voglia di fare niente. Non è così. Ha un suo modo e tu devi capire, è quel modo lì che ha, ti è utile a te. Quindi non sarei così sicuro che non hai voglia. Bisogna avere un minimo di apertura, mettersi un minimo nei panni anche di questi ragazzi. Certo. Bisogna tornare a quando eravamo noi, non bambini, ma poco di più, a che cosa avevamo nel cuore, quali aspirazioni avevamo e quali diverso era quello che avevamo nel cuore noi rispetto a quello che aveva nel cuore i nostri genitori. Certo. indicavano anche a noi la stessa cosa. Quindi a me viene da dire, mi viene da rivolgermi di più all'adulto, perché è l'adulto oggi che ha il compito di tirar su le nuove generazioni. Le nuove generazioni non si tirano su da sole. E se l'adulto ha questo tipo di sguardo, può essere che intercetta degli aspetti interessanti. E tenete presente che l'adulto normalmente, purtroppo, parte da quello che c'è che non va. Mentre l'invito è all'adulto di partire da ciò che c'è di buono. Siccome su questi giovani c'è del buono, se si parte da lì, allora l'aspetto che ha voglia di fare quello che l'adulto ha in mente, che lui faccia, magari passa in secondo piano. Certo. E si scoprono degli aspetti che insieme possono andare lontano. Noi abbiamo 400 collaboratori, tra dipendenti e collaboratori. E ce li abbiamo di le famose sette generazioni diverse. Ma sono veramente tutte diverse. Dal 60enne al 50enne, al 45enne, al 35enne, al 26enne, che è diverso dal 22enne, al 19enne. Che è diverso dal 22enne. Che sta facendo il percorso ITS da noi, che sta facendo magari l'apprendistato di terzo livello e che arriva e che fa saltare per aria quello che ne ha 25, che pensa di essere lui. Arrivato. La novità. No. E invece, in qualche modo, questa coesistenza e questo rispetto anche fra generazioni diverse può essere una chiave. Perché mai nella storia dell'uomo ci si è trovati con sette generazioni completamente diverse, che hanno linguaggi diversi. e questi linguaggi diversi si fa fatica a intercettarli. Perché ognuno ha uno strato suburbano dove ha un certo tipo di logica, un certo tipo di linguaggio. Di chiave di accesso. Come dire. E anche dei pregiudizi. Questa, dei pregiudizi. Fra le generazioni. Con un dialogo che non c'è, perché non c'è dialogo fra le varie generazioni, con uno che considera l'altro boomer, l'altro che considera... Cioè, e questa divergenza non aiuta. E la soluzione c'è? No, la soluzione... C'è un bilanciamento. Io non so se c'è la soluzione, se ce ne avessi non sarei qui. E dove saresti? O magari saresti qui alla tua mission. Non lo so, no, perché è la chiave della vita. Anche all'interno. La chiave della vita, però il tema è che, come dire, ognuno... Cioè, se io parto dall'idea che ognuno è un bene per me, che ognuno è una risorsa per me, Se io parto da questa cosa qua, come dire, guardo l'altro con una chiave diversa. Perché prima mi sono rifatto al Covid? Perché l'aspetto dell'altro nel Covid ha introdotto in ciascuno di noi un sospetto. Perché l'altro era il nemico, era quello che poteva attaccarti. Questa roba ci è entrata nella testa e ha acuito in qualche modo una distanza, una difficoltà di dialogo. Dopo il Covid sono successe delle cose, non possiamo ignorarle. Ma non lo dico per dire che è colpa del Covid, no? Ma lo dico per, in qualche modo, introdurre anche un concetto di dialogo che serve, che va fatto, che va capito. E ripeto, dire che ognuno è una risorsa per me non è una cosa scontata. Perché quando tu hai a che fare, io vedo due generazioni diverse che hanno a che fare l'una con l'altra, che fanno fatica, che magari uno fa un dispetto, quell'altro... Cioè è difficile in quell'alveo lì concepire che ciascuno è un bene per me. Se io parto da però a sperimentare questa cosa qua, e ne trovo un bene, allora capisco che ci sono degli aspetti che io posso attingere e che non riguardano solo vecchi e giovani. Perché le generazioni sono sette e sono tutte diverse. Ma all'interno di un'azienda, secondo te, come si fa a, non dico... Coniugare, dici? Sì, a coniugare, a trovare quel filo rosso che passi di generazione in generazione che porti un bene sia andando avanti che andando indietro. Cioè, secondo me, ci deve essere consapevolezza da parte di chi guida, intanto. Perché se chi guida non ha consapevolezza che ci sono queste, come dire, queste diversità, e che queste diversità possono costituire un valore, chi guida tenderà a privilegiare alcune generazioni a scapito di altri, facendo danni. No, se chi guida ha in mente sta roba qua, beh, allora può diventare interessante trovare dei luoghi, noi lo facciamo spesso da noi, dove mettiamo insieme, sullo stesso progetto, teste diverse. Esatto. E allora dove uno scopre che l'altro non è proprio così boomer, come pensavo. E magari c'ha un DNA che quella generazione lì gli ha impartito, che gli ha permesso di arrivare fino a qua e ci ha permesso a tutti di arrivare fino a qua. E viceversa, quello capisce che il giovane, forse, come dire, è più smanettone, ma ha bisogno di compagnia, più di quanto lui non pensi. Vero. Cambiamo un attimo argomento, anche se in realtà rimaniamo sempre centrali. Come ci si orienta nell'offerta formativa in Italia che negli ultimi anni è cambiata in una maniera radicale, direi? E quindi abbiamo sette generazioni che devono orientarsi e chiedersi dove vado, con chi, come, e iai, sì, no, come, dove? Allora, quello che dici è un gran casino. Io non so risponderti perché a partire dalle superiori si sono create una miriade di scuole. Adesso io ho presente i miei quando sono le soglie di scegliere le superiori. Cioè, per la mia generazione era semplice. Certo. Liceo, istituto professionale, fine. E via. Adesso è un casino. Certo. Ci sono mille, come dire, sfumature diverse. Mille possibilità. E questo crea un po' di confusione. Certo. Lo stesso, ho visto, sta accadendo, ma non è detto che sia negativo, che sono tante. Diciamo che, come dire, manca, secondo me, un po' un accompagnamento, una chiave di lettura, sempre da parte dell'adulto. All'affacciarsi dell'università, anche lì, si sono declinate tantissime, cioè io ho fatto ingegneria in un mondo dove c'erano quattro specializzazioni. Cioè, adesso ce ne sono, solo su ingegneria ce ne sono una marea, quindi è difficile anche orientarsi. Questo però è un tema. Se parliamo di formazione e l'ancoro al tema dell'orientamento, noi vediamo che viviamo in un mondo di male orientati, di gente che ha dovuto seguire i genitori, di gente che ha dovuto per forza magari fare una scuola più difficile di quello che era nelle sue corde, facendo quella scuola più difficile, non gli è stato d'aiuto, perché si è sentito un po' di meno degli altri. E questo sentirsi di meno degli altri l'ha marchiato e, in qualche modo, se lo porta avanti come blocco. Quindi questo, come dire, natura di male orientamento, poi sfocia anche nel mondo del lavoro. Guardate, noi abbiamo avuto due birrai che sono venuti a fare il corso, abbiamo un corso da birra. A me ha colpito molto perché erano due ingegneri, noi di solito facciamo i corsi per gente che magari vuole cambiare professione, vuole cambiare mestiere, però è un ingegnere, voglia fare il birrai è un po' strano, quindi l'ho dovuto incontrare anche io e loro mi hanno detto guarda che noi avevamo sempre avuto questa idea di mettere in piedi un locale, eccetera, però dopo fai il liceo, devi fare il liceo, siccome sei intelligente fai anche ingegneria. E ci siamo roti le palle di girare l'Italia facendo 70.000 km l'anno a girare carte perché facevano certificazioni nell'ambito della sicurezza e abbiamo deciso di fare sta roba. Loro hanno un birrificio molto bello attualmente. Ma come si chiama? Non posso dirlo. Hanno un birrificio molto bello, ok? E quando io ho chiesto, non posso dirlo per, dopo te lo dico, per la roba che sto per dire adesso, quando gli ho chiesto qual è stata la parte più difficile, sai cosa mi hanno risposto? Iniziare? No, a 38 anni mi hanno risposto dirlo ai genitori. Caspita! A 38 anni, perché? Perché ci avevano ancora sulla testa l'idea che i genitori hai fatto liceo, hai fatto ingegneria, adesso fai l'ingegnere, basta, non importi te, importa quello che io ho in testa di te. Ecco il tema di prima del perimetro dove uno dice... I ragazzi non vogliono fare niente. Ecco, allora uno potrebbe dire ma questi non vogliono fare niente, potrebbero dire... No, quelli sono contenti, hanno trovato la loro strada e non è meglio o peggio se fai un ingegnere o lo spazzino, l'importante è che tu trovi il tuo. Però quello è il retaggio sociale di quella generazione che è quella dei loro genitori, che ancora ha mio figlio ingegnere, se scoprono che ha mollato lavoro per aprire una pelleria... È uguale, è identico, è uguale, siamo uguali, siamo uguali. Quando abbiamo un figlio tendiamo a proiettare noi stessi, a pensare che sia un fenomeno e soprattutto tendiamo a proteggerli. Cosa non ha fatto la nostra generazione? Non ci hanno protetti. Io penso che da piccolo ho rischiato la vita perché partivo al mattino e tornavo la sera. Non sapevano dove ero. Dalla moto ai quattro anni. Ma sì, andavo dai miei nonni, non c'erano i telefonini, con una moto, con il vigile che sapeva. Partivo alle nove di mattina e tornavo la sera alle otto di sera. Ma non è che stavano lì, capito? L'idea di proteggere e anche l'idea di sostituirli è questo che li indebolisce. Perché io mi sostituisco alla tua responsabilità. No, bisogna sfidarli perché ne sono capaci. L'attenzione ai giovani è chiaramente dentro di te. Poi avremo un'altra ospite oggi con la quale parleremo di problemi sociodemografici. E tu sei un esemplare di maschio adulto che ha procreato in maniera abbondante. Quindi ti ringraziamo noi, tutti quanti noi, quelli che... Però com'è avere cinque figli? Straordinario. Una squadra. Ma tutte femmine, tutti maschi un po' un po'? Sono quattro femmine e un maschio. Caspita! Il maschio è il più piccolo. Siete due contro cinque. Mi fai la stessa domanda. Non è che ne ho fatti cinque perché cercavo il maschio. Mi fa piacere perché se no non saprei con cui vuoi dare le partite di calcio. Però è il quarto. Hai una conoscenza del mondo femminile probabilmente profonda? Scrabe, maschere? Piuttosto approfondita. Per forti comunque fa bene, soprattutto per l'ambito di cui ti occupi tu. Avere una conoscenza interogenea. Comunque è una grande fatica, però è stata anche una grande soddisfazione. Poi noi non è che abbiamo cercato, cioè sono capitati e punto. Non è che quando ci siamo sposati abbiamo detto ragazzi, facciamo un sacco di figli. Infatti man mano che arrivavano ci giravano anche un po' le palle lì per lì. Nel senso che dopo... Un altro? Un altro. Però insomma è veramente straordinario anche tra di loro e soprattutto la sera a casa, quando, perché adesso sono tutti via, cioè è appena tornata dall'Australia, la prendeva in Giappone. Quindi hanno, come dire... Ma anche la tua famiglia di origine è numerosa? La mia famiglia di origine eravamo in quattro. Ah, ma comunque... La mia moglie in tre. Sì, eravamo abituati in qualche modo a condividere. Ecco, e penso che questa parola condividere è la parola che, come dire, che mi viene in mente di più quando penso alla mia famiglia, quando penso a loro, perché sono stati abituati subito a condividere. A condividere le cose e a condividere anche... Ci sono delle robe che io non so che si dicono tra di loro e io sono contento che le facciano tra di loro. Certo, è giusto che i fratelli lo sarebbero dei segreti. Con rispetto non potrei intervenire. Certo, infatti tu in casa hai tre, quattro generazioni diverse alla fine. Ho generazioni diverse ed è interessante perché le più grandi all'inizio sembrava che eravamo noi. Invece poi, la più grande ha 22 anni, la più piccola ne ha 11. Voi capite che dentro c'è un arco temporale dove ci sono già modi di pensare diversi. Molto diversi, molto diversi. Soprattutto tra quelli che ne hanno 16. Tra quelli che ne hanno 16 e 18 sono molto legati, sono maschio e femmina. Che si comincia a vedere una differenza con quelli che ne hanno 21 e 22. Ne hanno 22 e 21, 18, 16 e 11. E ti capita mai di chiedere, aprirti a loro per chiedere dei consigli su quello che devi fare per avere proprio il punto di vista? Allora, non mi è mai capitato di chiederli i consigli, però li ricevo. Indirettamente raccogli? Li ricevo perché hanno un modo di giocarsi bello. Ma le ricevo non necessariamente dalla più grande. Può essere anche la più piccola che magari su una roba che siamo a cena mi corregge. Ok. E io dico, caspita. Wow. Grazie. Magari lei non se ne è accorta, però dopo gli dico, hai ragione. Capito? Questo secondo me è interessante. C'è anche perché loro prendono un po' di consapevolezza anche di quello che possono... Sì, beh, diciamo che dopo i sei anni, cioè è fino ai sei anni che considerano il papà e la mamma come due entità, capito, super, eccetera. Cioè quando hanno compiuto già, quando hanno compiuto i sette, capiscono che il papà è un deficiente e che non è che sia, capito? E questo, come dire, è deficiente nel senso che è una persona normale che commette degli errori e quindi questa fase di idealizzazione finisce in realtà molto presto. E secondo me va anche assecondato il fatto che dentro un rispetto di ruoli che ci deve essere, e non vanno confusi perché non siamo liquidi, ok, da questo punto di vista. Però, insomma, va incentivato in loro perché cresca in loro consapevolezza, perché crescono umanamente. Cioè dove intercettano qualcosa di vero anche rispetto a te, ebbene, faglielo sapere. E non è scontato. No. Uno dei nostri temi, approfondimenti, infatti poi faremo un quiz, vero, Ludovico, è le emozioni. Le emozioni del marketing, ma le emozioni comunque. Dunque, vedi in tutte le persone che, insomma, che frequenti, c'è consapevolezza emotiva, c'è intelligenza emotiva? Sappiamo gestire le nostre emozioni? Allora, è una bella domanda. Direi che è un tema, perché l'emozione a sé stante, cioè l'emozione quando non è il riflesso del vero, di qualcosa di vero che uno ha incrociato, diventa complesso, perché il rischio è che si sta su un livello, in qualche modo, superficiale. No? Anche la droga crea emozioni, però non è il riflesso di qualcosa di vero. Ok? Allora, siamo in un mondo dove molto spesso confondiamo l'emozione con quello che di vero, invece incrociamo nella nostra vita. Ecco, l'emozione può essere il riflesso di qualcosa di vero, però invito ad andare a capire dove sta quella corrispondenza che tu incroci, no? Quando impatti su una realtà diversa, perché stare sul livello delle emozioni diventa, secondo me, può essere rischioso. Perché noi siamo fatti di, ripeto, siamo fatti di emozioni, ma come riflesso di qualcosa di vero che abbiamo incontrato. Certo. Se noi sleghiamo le due cose, sleghiamo questo riflesso del vero dall'emozione, come dire, ecco, lì secondo me c'è un perimetro delicato. Flebile, delicato. Perché non fa sì che uno abbia una radice. Sì. Capito? Cioè, non è il proprio agire, è come alla ricerca dell'emozione. Quando uno è alla ricerca delle emozioni, non come riflesso di qualcosa di buono, di vero che ha incontrato per sé, qualcosa che cambia, anche se lì diventa un po' complicato. A me, per esempio, quando fa le interviste, avete presente quando fanno le interviste dopo una partita di calcio, no? Sì. La domanda qual è? Che emozione ha provato quando ha fatto il gol? Sì. Secondo te. È stata un'emozione unicadissima. Ho pianto, non volevo fare gol. Perché deve avere l'emozione, non fa il gol perché ci ha costruito, perché ci ha lavorato. È un obiettivo. E quando lo fa, c'è in mente tutto un regresso. Il trascorso che ha fatto per arrivare niente. Ma non è che se non lo fa, ok? Non ce l'ha. Allora, tutto quello che è stato non vale niente. Certo. Questo è il rischio. Noi misuriamo, come dire, dall'esito le cose. Ma le cose, quando uno le fa, possono andare bene, possono andare male. E a volte quando va bene non è neanche merito tuo. E quando va male non è neanche detto che sia colpa tua. L'importante è il percorso che fai. E su questo percorso è ancorato un insieme di incontri che fai e di cose vere che incroci, che poi sì, ti dà un'emozione. Però come conseguenza. Perché abbiamo l'ansia di risultato. Sì, abbiamo anche l'ansia da prestazione. E abbiamo l'ansia di misurare noi stessi e di far coincidere noi stessi quei risultati che portiamo. Noi siamo molto più grandi del risultato che portiamo. E anche dentro un fallimento, per esempio, ci possono essere delle risorse che recuperiamo, che ci fanno diventare più forti, più grandi di prima. Ma infatti in Italia fallire è un reato, negli Stati Uniti è un fattore di incremento del rating. Cioè negli Stati Uniti un fondo americano ti acquisisce se hai già fallito. Perché vuol dire che tu hai fatto un percorso di fatica, di dolore, di consapevolezza. E se l'hai fatto una volta probabilmente non lo rifarai. Certo. Però non voglio toccare temi. No, no, è bellissimo. Mio papà mi dice sempre non sbagli ma impari. O vinci o impari. Noi tutti abbiamo imparato a camminare perché siamo caduti. Certo. C'è anche... O anche in moto. Mi hai imparato a correre. Sì, sì, sì. Ce l'hai, ce l'hai Ludovico? Sì, sì, ne ho un po'. Vai, vai, vai. È un quiz. Io ti farò delle citazioni. Va bene. E tu mi dovrai... Ci tengo a dire a tutti che è un'imboscata, io non sapevo nulla di dove c'è. Avevo pensato... No, ma questa è comunque una sorpresa. Avevo pensato che mi volesse offrire un aperitivo, una roba così e vabbè. Allora arriva, andiamo a prendere un po' quello. Prego, prego. Sono citazioni, quindi non ti darò la definizione, ti darò una citazione. Quando siamo troppo allegri, in realtà siamo infelici. Quando urliamo, in realtà abbiamo paura. Quando parliamo troppo, in realtà siamo... Insicuri. C'è quasi. L'insicurezza, quasi. C'è quasi. Quasi. Immaginate. Da una persona che è troppo allegra, forse infelice. Una persona che urla, ha paura. Uno parla troppo, in realtà è... Ok. Io l'ho letto. È vicino. È un po' vicino all'insicurezza. È vicino all'insicurezza. Ah, tu l'hai letto? È comunque una cosa... È un sbaglio, guardando Ludovico. ...che ha un'accezione negativa. Ah, ok. Quindi un'emozione negativa. No, parla troppo, non hai niente da dire. No, parlo troppo perché... Perché dentro di te hai questa sensazione. No, non vi è mai capitato di una persona che parla troppo, ma in realtà lo vedi che è... Ah, che è vicino all'insicurezza, che ha detto Federico. Sì. E la prossima domanda la voglio sui transistor, perché io sono un perito elettronico. Allora, se hai due amplificatori, valvolari... Collegati in classe A. Esatto. No, dai, l'assenza di comodità, come potrebbe essere? Eh, lo sconforta. Quindi, quindi... Parlo troppo perché sono... Ah, fuori... Non sono a mio agio. A disagio. A disagio. Ah, ok. Ok, sì, ci sta. E' vero, è vero, è vero. Il disagio. Questa è facile. Ok. Di solito è l'ultima chiave del mazzo ad aprire la porta. Non so perché mi è venuta la sfiga, ma... Di solito è l'ultima chiave del mazzo per aprire la porta? Ebbiamo avere tenacia, pazienza, resilienza. Un sinonimo della prima, un sinonimo molto più semplice. Cazzimma. Che non è pazienza, che non è pazienza. No. Questo è un bello. No, non è pazienza, ma... E prova 1, prova 2, prova 3. Alla fine... Caparvietà. Sì, dai, stai dicendo solo dei termini molto più... Ah, determinazione. 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 Ok, ok. Sì, sì. Sì, sì. Beh, quanto sono importanti queste emozioni, la determinazione e anche il disagio magari proprio nell'attività imprenditoriale e quali devi trasmettere al tuo team per fare in modo che lavori in un certo modo? Ma non so se la determinazione è un'emozione, è un modo di essere più che un'emozione. E direi che sono importanti che comunque, detto quello che ho detto prima sulle emozioni, sono importanti da recuperare, non è che sono sbagliate. E se sono ancorate, come dicevo prima, a un aspetto, come dire, di vero che si è incontrato, diventano un veicolo straordinario. Ok? Anche alcuni video emozionali, voi fate questo di mestiere, voi capite che quando sono ancorati a una storia vera, a un punto vero, diventano, come dire, diventano veramente qualcosa di utile e di potente che comunica molto più, a volte, delle parole. Il lavoro che stiamo facendo noi adesso è di, per esempio, capire anche la mission dell'azienda e capire dove siamo radicati, quali sono i valori che ci contraddistinguono e, come dire, sto facendo un lavoro anche con tutti su questo. Perché poi se tu chiedi su un'azienda quali sono i valori, il rischio è che ti rispondano dieci cose diverse, però che hanno dei denominatori comuni, no? Secondo me poi il business è conseguenza di questo. Perché se tu hai, come dire, ogni azienda, anche quella che fa le robe più semplici, esatto, non lo so, fa mattoni, c'ha comunque una mission dentro. E quindi il fatto di tirarla fuori, di condividerla, che sia chiara a tutti, ecco, questo fa sì che poi quello che tu dici, la determinazione, le emozioni, eccetera, siano ancorate a un punto, come dire, che fa andare oltre quello che è il proprio... Cioè, adesso a me colpisce molto, per esempio, quella frase di Peggy, che è questo autore di fine ottocento, dove lui dice che c'è stato un tempo dove il lavoro era un primato. Cioè, era... quelli che facevano una sedia la dovevano fare bene perché doveva essere fatta bene in sé e doveva essere fatta bene anche sulle parti che non si vedono. Non per il padrone, non per lo stipendio, non per compiacere il cliente, ma perché deve essere fatta bene in sé. Ma per la purezza del gesto, dici? Per il rispetto di quello che hai? Sì, per il rispetto di quello che hai davanti. E questo, come dire, concetto, questo concetto di lavoro che va a pescare sulla mission, ok, è ineludibile e fa fuori il fatto che il capo è uno stronzo e il capo è uno stronzo. Sì, a prescindere. Molto spesso è uno stronzo, cioè, perché è quello che ti hai capito. Fa fuori il fatto che quel collega lì io non mi trovo, ok, fa fuori il fatto che lo stipendio non mi piace perché lo vorrei più alto, fa fuori il fatto che non mi hanno dato lo smart working. Cioè, tutto questo aspetto del lamento che caratterizza molto, ok, questo tempo, ma anche i tempi che ci hanno passato, se ne cogliamo l'originalità del lavoro fatto bene per come ce l'aveva in mente Peggy, che a me colpisce sempre molto quella frase di, c'è un lavoro fatto bene in sé, ok, che tutti noi abbiamo. Perché voi siete qui oggi, non perché, ve l'ha chiesto lui, non perché avete in mente che lo stipendio, non perché, ma perché avete a cuore di fare un lavoro fatto bene. Tu sei preparato con la, lei mi ha fatto l'imboscata, cioè, ecco, questo traspare. Una squadra che ti ha ingannato. Questo va recuperato, va recuperato e va reso trasparente. Perché a volte c'è, ma ce lo dimentichiamo. E ogni azienda ce l'ha, questo aspetto. Una delle primissime cose che noi chiediamo alle aziende, per realizzare qualsiasi tipo di progetto. Ho parlato troppo, non vorrei sembrare insicuro. No, no, è appunto la vision, la vision, i valori, da lì si parte per tirar fuori e comunicare. Parlando di gusti personali, passioni, eccetera, libri, film, che particolarmente nell'ultimo periodo ti hanno colto, colpito, che vuoi condividere e dire, andate a vedere, andate a leggere. Allora, sto leggendo, adesso che me l'ha regalato, la storia del fondatore della Nike. Phil Light, letto. Quello mi ha molto piaciuto. L'hai visto il film? Non l'ho visto. Guardalo. Cioè, di solito quando leggo il libro non vedo il film. Per metodo no. E dopo ho letto anche, però non ricordo il titolo, qualcosa su Elon Musk che mi ha molto colpito. Perché anche lui è... Fuori classe, diciamo. Allora, è controverso. È fuori di testa. È controverso, ci sono degli aspetti controversi sicuramente dalla sua persona. Però ci sono dei punti che lui tocca che secondo me sono davvero molto veri. Ecco. Di film, non me ne vengono in mente, vi dico la vera, però ne vedo tantissimi. Sono appassionato di film, però adesso dirvi uno che mi ha particolarmente colpito. Va bene, poi abbiamo la solita domanda sulla... Aspetta che mi sono... Coronelogia di Netflix. Se ce l'ho, perché sono dopo, io ho una memoria anche... Ma anch'io guardo quello che ho guardato per ricordarmelo. Ecco, Abbi Fede. L'ultimo che ho visto su Rai Play, molto bello. Abbi Fede. Abbi Fede. Eh, bisogna... Bisogna vedere. Invitò a vederlo, sì. Dobbiamo avere... Andate a vederlo, sarà bello. Andate a vederlo. Andate a vederlo. Abbi Fede è interessante, secondo me. È un po' anche un consiglio. Abbi Fede, vai a vederlo. Esatto. Abbi Fede. Abbi Fede. Abbi Fede di Federico. Dai, sulla campagna. Di solito noi chiediamo sempre no sulla... C'è una campagna che hai realizzato, che secondo te è avuto particolarmente successo, o che hai un ricordo o un'operazione di comunicazione che ti è rimasta dentro? O che è funzionato particolarmente? Sì, erano, diciamo, eravamo nel 2010, come siamo 14 anni fa, e era il periodo dove c'erano un sacco di fondi, un sacco di soldi finanziati per fare i corsi. E noi abbiamo pensato che però quella cosa lì, quando è gratis, non vale niente. Infatti noi facciamo corsi e i corsisti erano, come dire, sì, è gratis e quindi l'attenzione loro non si spostava sul contenuto, ma si spostava su dove il buono pasto, dove questo docente, quella c'è, con un po' di lamento, diciamo così. E lì ci siamo, però abbiamo capito che c'è un desiderio vero da parte delle persone di formarsi e quindi abbiamo pensato, proviamo a fare dei corsi a pagamento, no? E ovviamente ci siamo guardati come fossimo dei pazzi, ma come è tutto gratis, fai i corsi a pagamento. Oggi è gratis, domani pago. E in più ci abbiamo abbinato a pagamento per la prima volta in Italia anche lo stage, siamo stati i primi a partire e questo ha avuto una esplosione di richieste pazzesca dentro l'idea anche un po' di industrializzare, perché se ne fai pochi il costo si alza e quindi tu limiti la possibilità di accesso da parte di chi magari non ha la possibilità di parteciparvi. E quindi contemporaneamente abbiamo ragionato su tutto, anche su come veniva fatto il prodotto che c'entrava anche col marketing. Abbiamo lavorato sodo un annetto, abbiamo avuto la fortuna di incrociare persone straordinarie, ricordo fra tutti Avinash che era credo vicepresidente di Google al tempo, che era molto accessibile perché Google, sembra strano, ma 14 anni fa non era quello che è adesso, non era la prima assurdo. E quindi era accessibile, era possibile parlarci. Cioè nel 2010 era possibile che tu mandavi una mail e questo ti rispondeva, era possibile incrociarlo in qualche conferenza. Era un chiocciolagmail.com. Io ricordo una conferenza sul marketing a Barcellona dove l'abbiamo incrociato, l'abbiamo conosciuto insieme a Laura Boesso, ricordo una conferenza a Rimini, dove lui gli mandava una mail e ti rispondeva. E quindi insieme con questo, al periodo dove tu dicevi alle aziende che dovevano essere su Google e loro ti dicevano, come si diceva prima, no no, bellissimo. Però la SEO non fa per me. Ma io vendo viti e non c'entra niente. Web mi serve. Quindi no, per te va bene. Esatto. Continuo a utilizzare. Però io, dopo di che in realtà le cose, come sappiamo, sono andate diversamente. Quindi se immagino a una campagna che ha creato qualcosa di nuovo, ok, dove abbiamo contemporaneamente ideato un prodotto che non c'era, in una modalità che non c'era, su un target che sembrava non esserci, perché il target che paga sembrava non esserci, perché era tutto, era tutto. Ecco, se penso a una campagna, cioè questo è quello che ricordo con più affetto, anche perché ci ha costretto tutti, con parti diversi, dall'amministrazione, attenzione, fino al marketing, perché poi l'amministrazione è fondamentale, perché non bisognava chiedere i soldi subito, dobbiamo trovare il modo di pagare di le azionati. Quindi abbiamo trovato anche strumenti finanziari, però erano tutti concentrati su questo target di cliente che pensavamo, eravamo sicuri che ci fosse da ricerche che l'hanno fatto e quindi da lì tutti attorno si è sviluppato un progetto, secondo me molto bello, che tiene anche ancora oggi, insomma. Complimenti. Bellissimo. E campagne che ti hanno segnato particolarmente, che ti ricordi, che non avete fatto voi? Di qualche brelle. Sì, dalle più famose. Ah, in quel senso. O uno spot particolare che ti ricordi? Allora, quello della Pepsi non vale perché ce lo dicono tutti. No, te ne dico uno che non so se conoscete, che forse è un po' originale. Allora, non so se l'avete presente, a un certo punto arriva che le automobili diventano elettriche e quindi le varie case si chiedono come possono far veicolare questo messaggio, questo cambiamento. A chi? Pensateci. Al giovane? No. No. Il giovane. Non ha potere di mercato. No, non perché non ha potere di mercato, perché per lui è una cosa nuova e quindi per lui è normale, lui è normale, l'auto la compra elettrica. Se voi guardate il mercato delle Tesla, adesso che hanno abbassato i prezzi, la maggior parte degli utenti sono giovani, anche perché con le app è un casino, cioè ci si mette… Per accenderla, è comodissimo. No, io ho provato una volta è un casino, cioè… Per te è facile, per lui la sto comprando io adesso. No, ho chiamato mia figlia e gli ho detto come cazzo si fa qua a fare benzina, non riesco a capire. Ma non fa benzina. E quindi mi ha colpito come, per esempio, avete presente la pubblicità della Renault, quando che quindi si rivolge al target della mia età, noi siamo quelli della Ferrari, siamo quelli nati sui motorini, con le mani sporche d'olio, che bisogna che compri un'auto elettronica. Che cazzo fai? Allora, che cosa hanno recuperato? Due cose. Uno, Nothing Else Mother, cantata da Scala and Conrad Clean Brothers, che è questo gruppo delga, di voci bianche e donne che rifanno canzoni famose. Quindi c'è questa canzone su una pubblicità della Renault che è Nothing Else Mother, che cos'è Nothing Else Mother? Che ricorda quel periodo? Che è la tua generazione. Non è per la generazione, è per noi, ma cantata dai Conrad Clean Brothers, introduce anche una dolcezza, capito? che ti introduce, e nella stessa, in una pubblicità dopo, sempre della Renault, ti fanno vedere le macchinine della Renault come sulla Polistil. Ok. Era quando giocavi? La Polistil? A chi è rivolta? A voi sempre. Alla nostra generazione. Erano delle piste fatte a otto, tu potevi fare il cerchio, ma quella interna vinceva sempre perché aveva meno strada. C'era il motore che toccava sulle rotaie che girava, e questa pubblicità ti fa vedere le macchine della Renault e alla fine la pubblicità ti dice, in fondo in fondo, hai sempre desiderato un'auto elettrica. Ma è geniale. Allora, questa roba qua mi ha molto colpito perché hanno pensato al target e hanno capito che non è il problema dei giovani, ma che bisognava che convincessero la nostra generazione, anche poi per un problema che dicevi te, perché il potere d'acquisto... Eh certo, anche perché probabilmente ho 18 anni e il papà che la compra elettrica. Esattamente. Quindi... Progetti futuri? Allora, progetti futuri ne abbiamo una marea, stiamo molto andando a sguardare, perché noi avevamo, eravamo concentrati, noi abbiamo i bambini con il Dipartimento Cresco. ne abbiamo più o meno 200 degli elementari. Sì, sì, sì. Abbiamo poi la formazione professionale con DF, abbiamo istituti paritari, licei e istituti tecnici con questo nuovo progetto che è il progetto Smart School Innovation, dove abbiamo queste tre scuole e poi avevamo tutto il comparto, abbiamo tutto il comparto adulti che vogliono riqualificarsi. Stiamo lavorando molto sul post diploma, cioè pensiamo ci sia un target di persone che magari non sono adatte ad andare all'università, però non vogliono neanche immediatamente confrontarci con il mondo del lavoro. Il mercato del lavoro, certo. Molti di questi sono anche quelli che dicevo prima mal orientati, cioè magari hanno fatto il liceo un po' forzosamente, però non vogliono possibili gli studi in ambito accademico. Siamo convinti che c'è una grande sette dal punto di vista professionalizzante di questi ragazzi. stiamo sviluppando dei prodotti belli ad hoc che siano di matrice tra professionalizzante e accademica, con un rilascio anche di credit universitari. Questo è un po' il su che target? Sempre sul digitale, che è quello che ci caratterizza, e sul food che sono i due ambiti. In qualche modo che da quando siamo nati, 40 anni fa, ci caratterizzano. 40 anni fa non c'era proprio digitale, ma eravamo sulle reti di computer. Sì, sono molto d'accordo su quello che hai detto. Io ho avuto la fortuna di fare scuola, ero già appassionato di fotografia, ho studiato cinematografia alle superiori, quindi ho avuto culo che ho trovato quella scuola lì, non ho ascoltato chiaramente il consiglio dei miei professori, e sono andato e sono stato contentissimo. Però tantissimi miei amici hanno fatto il liceo scientifico piuttosto che, e adesso tantissime persone stanno cercando, dicono adesso cosa faccio, mentre fanno i camerieri, però chiaramente non vogliono fare i camerieri. Tenete presente che il 50% delle persone che escono dalle medie vanno a fare il liceo, una roba sproporzionata. E dopo il liceo, per forza di cose… Sì, ma io ho fatto il liceo scientifico, poi ho fatto lingua italiana. Che è una bella scuola, però ognuno deve fare il suo percorso. E che alle medie… tu sei d'accordo su quello… tanti dicono che alle medie non sei abbastanza grande per scegliere cosa vuoi fare da grande, e quindi i genitori ti cercano di indirizzare su quello che potrebbe essere una roba che… Non sono pienamente d'accordo. Secondo me i nostri ragazzi e le medie sanno quello che vogliono. Sono i genitori che vogliono per i ragazzi qualcosa di diverso. Quindi non è cambiato. E se i genitori sapessero guardare un po' di più ai ragazzi, ok, forse avrebbero coraggio di, invece di metterli magari su scuole, a volte dico io troppo impegnative, di metterli più a loro agio. Sì, ho troppo impegnativo che magari fanno cose che non… Non li interessano, non fa per loro. Cioè io per esempio di cinque figli penso che ne ho tre che hanno un approccio deduttivo e due che hanno un approccio induttivo. L'approccio deduttivo vuol dire che io ho un approccio deduttivo. Vuol dire che io quando ho comprato l'iPhone ho cercato il manuale. No, cioè devo prima leggere e dopo… L'approccio induttivo vuol dire che imparo facendo. Sì. Se uno ha un approccio induttivo non gli puoi far fare il liceo. Che è il mio e il tuo. Eh sì. Capito? E non è che l'approccio induttivo sia di meno dell'approccio deduttivo. È diverso. È diverso, certo. Ok? E in Italia c'è una spaccatura tra il sapere intellettuale, i lavori intellettuali e i lavori manuali. C'è una grossa spaccatura. Sì. E invece le due cose secondo me sono unite. Assolutamente. Capito? E hanno… concorrono entrambe a creare valore. Dico una roba veloce. Ho un amico di Parma che ha vinto il restauro della Basilica della Natività. Per fare un esempio. Wow. Tanti anni fa. E lui ha vinto contro studi di Londra che avevano… erano dieci volte più grossi. Sì, sì. Ok. Quando gli ho chiesto ma come cazzo ho fatto vincere… Come hai fatto? No, bellissima. E lui mi ha detto guarda io ho degli ingegneri mentre restaurano che sono vicini, si siedono vicini mentre stanno facendo proprio il restauro del legno pittorico eccetera che sono vicini a chi ha la maestranza. Ok. E in qualche modo mentre chi ha la maestranza insegna all'ingegnere o al tecno o a quello laureato alcuni aspetti che hanno a che vedere con le mani, questo chi fa con le mani impara invece anche il perché. Dalla parte teorica. Uno impara il come, l'altro impara il perché. E questa cosa mi ha molto colpito. Perché è stata la chiave per cui lui l'ha restaurata quella roba lì. E mi ha colpito ancora di più quando gli ho chiesto come la mettiamo con lo stipendio. Perché abbiamo l'idea che i lavori manuali vengono pagati di meno. E lui mi ha detto guarda costano uguali. Cioè l'ingegnere che ha fatto il percorso di laurea eccetera nel mercato costa uguale a quello che magari non ha fatto questo percorso, ha fatto un percorso diverso e che però ha acquisito con la manualità quel tipo di competenza. Che per me è una figata. Quindi le due cose sono unite sia dal punto di vista che se tu non le guardi unite ma le guardi slegate fai un disastro perché consideri uno di serie B l'altro di serie A. Ma sono unite anche per il valore che il mercato non riconosce. Questa cosa però è una cosa che c'è dappertutto. Forse anche per quello che i genitori ti portano a scegliere una scuola magari un liceo o qualcosa che ti porti a fare un lavoro più ingegnere, dottore, avvocato, una cosa del genere piuttosto che una scuola più bassa, tra virgolette, che ti porta. Sì che non è bassa, è professionalizzante. Capito? Magari i genitori convinti di questa cosa qui perché purtroppo nel mondo è così nella maggior parte delle volte ti portano a scegliere scuole diverse e tu nel vostro percorso, nelle vostre fondazioni e quant'altro come gestite questa cosa qua? Se arriva qualcuno che vi chiede un consiglio cosa? Noi abbiamo percorsi di orientamento, siamo inseriti su tutte le reti di orientamento del Veneto e facciamo percorsi rivolti a tutti ma non solo a quelli che si iscrivono da noi. Noi abbiamo un servizio dove anche se uno vuoi iscriversi a come dire a scuole che noi non abbiamo riteniamo fondamentale in qualche modo anche come mission nostra incontrare le persone e cercare di trasferire valore. Che poi loro siano più adatti i figli a frequentare una scuola tipo liceo lo suggeriamo. Certo. Se è un istituto tecnico suggeriamo un istituto tecnico, se è un istituto professionale come dire lo orientiamo da noi ma per esempio se uno non ha attitudine alla cucina, noi abbiamo solo quell'ambito del food, lo orientiamo in altre e questo è un po' lo scopo del reti di orientamento. Notiamo che negli anni i genitori su questo fanno un po' fatica perché tendono a imporre l'idea sul figlio e tendono a guardare poco ma il figlio ce l'ha già se tu lo guardi. In terza media ragazzi uno ce l'ha dentro. Magari non riesce a tirarla fuori ma il compito di un genitore dell'adulto è quello di tirar fuori. Infatti fare il docente deriva da ex ducere vuol dire tirar fuori, non mettere dentro. Educare vuol dire tirar fuori, cioè tirar fuori il meglio. Ecco questo aspetto di tirar fuori è qualcosa di estraneo oggi a tanti adulti che pensano invece di riempire. Inducere. Quindi ho riempito, i nostri figli hanno tutto perché stanno male. No, hanno tutto perché li ho riempiti di cose, ma non hanno niente ve lo assicuro. Il Federico Pendin farà sempre quello che sta facendo adesso anche fra dieci anni? E chi lo sa, buon dio riserva, a me piace quello che faccio, sono sfegatatamente appassionato e quel che si vedrà, quel che sarà si vedrà. Grande. Grande. Grande, grande. Beh, allora Born to be Wild. Eh, grazie. Grazie, grazie a voi. E grazie per quello che state facendo. Vorrei che ci serve anche dopo non romperla. Vedi, vedi, vedi. C'è scritto anche, like a true natural child. Parto proprio da lì. Like a true natural child. We were born born to be wild. We were born to be wild. We were born to be wild. We could crown so high. Never wanna die. Born to be wild. Federico Pendin. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Un saluto. Grazie.